Cominciamo dalla sensazione, quella di ritrovare Brindisi da avversario. Giovanni Pierdi Chizzi. È una sensazione che mi ha fatto enorme piacere, anche se avrei preferito trovarla da avversario nel prossimo campionato. Però per demeriti nostri, piuttosto che di Brindisi, non è stato possibile assolutamente. Ci abbiamo provato, con un po' di fortuna ci saremmo forse anche riusciti. Quindi devo dire che l'emozione di vedere tanti amici, posso ritenermi onorato di avere tanti amici Brindisini che in quei tre anni e mezzo ho conosciuto e ho coltivato. Sono venuto a salutarmi, di questo mi fa grandissimo piacere, come mi ha fatto grandissimo piacere vedere vecchi amici, vecchi collaboratori della società e anche dirigenti come Bagnato, come Marino, che stanno portando avanti questa società, come Sergio Ciullo, che mi ha fatto un enorme piacere vederlo. Penso che il torneo precampionato un po' ha smorzato questo tipo di emozione che sarebbe stata forte in caso di partita di campionato. Chissà non sia questo un preludio al prossimo anno. Parliamo della partita. Croccia Demis Cavina mi ha detto che è una bella squadra. Perché lui spesso, l'erba dei vicini è sempre più verde, si dice. Napoli è stata una delle squadre che ha fatto concorrenza a noi sul mercato, ha strappato a noi giocatori importanti per via di un budget importante che loro hanno. E quindi Cavina fa bene un po' a scaricare la pressione di avere una squadra costruita per vincere. Noi, con questo tipo di pressione, penso che dopo l'esperienza a Brindisina siamo abbastanza abituati e vaccinati e quindi sappiamo gestirla meglio. Penso di avere una squadra forte, ma forte come tante altre squadre. Penso a Napoli, penso a Torino, penso a Verona, penso a Brescia, ma tante altre squadre che hanno portato giù in A2 giocatori di grande valore della 1 come Mancinelli, Di Bella, Silver Brian. Quindi sicuramente assieme a noi ci sarà anche altra compagnia, però noi siamo fortemente motivati a voler conquistare quello che l'anno scorso ci è sfuggita proprio per non nulla. Puoi dire qualcosa su Brindisi, anche se il giudizio è rimandato, quello serio? Ma sì, noi abbiamo, si vede, abbiamo 4-5 giorni più di lavoro e quindi specialmente nel finale eravamo più freschi, più sciolti, anche se loro hanno ruotato tutta la panchina, però ancora è presto per dare un giudizio. Quello che è certo è che Brindisi ha costruito una squadra fatta di gente atletica, fisica, oltre che tecnicamente forte e in cui secondo me un ruolo determinante lo potrà avere Bulleri nel gestire le situazioni in campo, perché di fatto è il playmaker proprio della squadra e nel bilanciare tutti questi giocatori che hanno punti nelle mani e che tutti hanno la capacità di attaccare il canestro dal palleggio in situazione 1 contro 1. Un saluto a tutti i Brindisini.